Si va avanti a piccoli passi. Il Palermo pareggia sul campo della SPAL, 1-1 il risultato finale, ed aggiunge ancora un punto alla propria classifica. Un risultato che nell'ottica dell'obiettivo salvezza può essere accolto con soddisfazione dalla squadra di Corini, che come nel match contro il Como ha offerto una prestazione double-fass. Sofferenza nella prima parte del primo tempo, un po' meglio nella seconda parte, quando il gran gol di Brunori ha permesso di ristabilire la parità dopo il vantaggio di Meccariello. Nel secondo tempo ha prevalso la paura con la squadra rosa-nero e quella di De Rossi, che hanno badato più che altro a non prenderle. Nel Palermo in campo anche il difensore Nedel Cearu, che ha dimostrato grande attaccamento alla squadra, non lasciando Ferrara nonostante la notizia della scomparsa del papà. I rosa si mantengono a distanza dalle zone più pericolose della graduatoria e adesso possono preparare con fiducia la sfida contro il Cagliari, che sarà al Renzo Barbera domenica prossima. Il commento di Corini al termine della sfida. Ma io penso che è stata una prestazione importante al cospetto di una squadra che ha valori, che sa giocare a calcio, due squadre che hanno cercato fino all'ultimo secondo di superarsi. È stata una bella partita, gradevole. Complimenti per il campo perché ha tenuto molto bene nonostante la pioggia continua e dunque sono contento della prestazione, poi si è sempre più soddisfatti quando si vince, ma è una crescita costante che avevo già intravisto negli ultimi due mesi, anche quando non abbiamo fatto risultato e parlo delle partite di Cosenza e Venezia. Oggi portiamo a casa un pareggio che comunque oggettivamente e sostanzialmente penso che sia il risultato più corretto rispetto alla partita. Non è stato facile questa mattina quando Yonut ci ha avvisato della perdita del papà, mi sono confrontato con lui, c'era ampia disponibilità sia da parte mia che della società nella scelta del ragazzo, l'avremmo anche mandato a casa subito se lo riteneva opportuno, invece ha voluto esserci, abbiamo fatto una piccola riunione per avvisare la squadra, c'è stata una grande vicinanza, la partita di Yonut e della squadra certifica il valore di questo gruppo e faccio i complimenti al ragazzo perché in un momento così doloroso giocare e avere questa disponibilità è qualcosa di straordinario e da apprezzare per tutto il gruppo di lavoro.